musica 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 mandi un attimo il click che faccio sta roba un secondo almeno se no non è a tempo musica ma registrare non è importante musica 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 Dai dai, lo provo Cazzo, c'è anche questa variante che è una figata Che cazzo è così veloce Poi mi sarò C'è proprio il taglio qua Dai 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.